Per abbronzarsi, ma allo stesso tempo prevenire macchie solari, fotoinvecchiamento, eritema e scottature, è importantissimo scegliere un buon solare Vediamo quindi quali sono le caratteristiche irrinunciabili di un solare e quali sono le diciture che ritroviamo sulle confezioni e che ne garantiscono la qualità Impariamo anche quali sono le sostanze assolutamente da evitare Bentornato sul nostro canale YouTube, abbiamo già parlato di melanoma, un tumore maligno della pelle provocato dalle radiazioni UVB e UVA della luce solare Questa conseguenza gravissima però non è l'unico problema causato da una non corretta esposizione al sole Macchie solari, fotoinvecchiamento, scottature ed eritema sono il risultato di un'eccessiva esposizione al sole e senza le dovute precauzioni Tra le quali la più importante è il corretto impiego di un buon solare In questo video capiremo quali sono le caratteristiche di un buon solare e quali sono i pericoli che si annidano dietro una scelta sbagliata Magari dettata semplicemente dalla fretta Cosa molto importante, impareremo a destreggiarci nella lettura degli ingredienti dei solari Per evitare di acquistarne uno che contenga i filtri più pericolosi per la salute Capiremo inoltre quali sono le altre caratteristiche di una buona formulazione, oltre all'impiego di filtri sicuri ed efficaci E per farli utilizzerò come esempio alcuni dei nostri solari per darti anche una rapida panoramica dei migliori solari attualmente in commercio Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, se hai domande lascia un commento e sarò felice di risponderti Ma adesso iniziamo Un buon solare deve necessariamente essere efficace, sicuro per la salute e rispettoso dell'ambiente Le sostanze che conferiscono a questi prodotti queste imprescindibili qualità sono i filtri solari Vediamo quindi quali sono le tipologie di filtri e quali caratteristiche devono presentare per garantirci una tintarella intensa e duratura E la massima protezione per la salute della nostra pelle, senza dimenticare il rispetto per gli ecosistemi marini I filtri solari si distinguono in fisici e chimici Sono in ogni caso delle sostanze chimiche, ma hanno meccanismi d'azione differenti I filtri fisici non vengono assorbiti dalla pelle e la difendono formando uno strato protettivo che in parte riflette la radiazione solare Questo tipo di azione di natura meccanica conferisce loro una grande efficacia E soprattutto, visto che non vengono assorbiti dalla pelle, un buonissimo profilo tossicologico Il contro dei filtri fisici è che se ne percepisce la presenza sulla pelle, per cui potrebbe dar fastidio I filtri chimici, invece, vengono assorbiti nell'epidermide, lo strato più superficiale della nostra pelle Lì dove assorbono in parte la radiazione solare, trasformandola in una radiazione non nociva I filtri chimici sono molto efficaci e hanno ottimi profili di sicurezza se sono di buona qualità Oltre a presentare l'indubbio vantaggio di non essere percepiti sulla pelle Nei migliori solari non si trova mai un solo filtro, ma un complesso di filtri, anche chimici e fisici contemporaneamente Per sfruttare l'abbinamento dei due meccanismi d'azione e le peculiarità di ogni sostanza In questo modo è possibile ottenere delle formulazioni ad ampio spettro Cioè in grado di proteggere la pelle dai raggi UVB e UVA, ma a volte anche dai raggi infrarossi e dalla luce visibile L'ampio spettro di protezione è indicato sulle confezioni dalla presenza della sigla UVB, UVA racchiusa in un cerchietto, IR e luce visibile Che sia fisico o chimico, un filtro solare deve rispettare determinati parametri e presentare delle caratteristiche che andiamo a vedere I filtri devono essere fotostabili, cioè stabili alla luce, in modo da non degradarsi troppo rapidamente e non richiedere delle applicazioni troppo frequenti Inoltre non devono essere fotosensibilizzanti, cioè non devono degradarsi in delle sostanze che inducono la cute a reagire quando ci si espone alla radiazione solare I filtri solari non devono essere sostanze allergizzanti, cioè in grado di provocare reazioni allergiche o peggio ancora tossiche nella modalità d'uso prevista Per ottenere questo risultato è importantissimo che i filtri non vengano assorbiti sistemicamente nella circolazione sanguigna Ovviamente questo pericolo si presenta maggiormente per i filtri di tipo chimico, che per funzionare devono essere assorbiti nell'epidermide Anche se non è previsto l'assorbimento, i filtri non devono essere degli interferenti endocrini, cioè delle sostanze in grado di modificare l'attività ormonale del nostro organismo I filtri solari non devono essere inquinanti e tossici per i coralli, lo zoo, il fitoplancton e il sistema marino in generale Questo aspetto potrebbe sembrare secondario e invece non lo è, considerando che ogni anno nei nostri oceani vengono riversate circa 14.000 tonnellate di creme solari La conseguenza, oltre alla distruzione di ecosistemi marini importantissimi come le barriere coralline, è l'accumulo di queste sostanze nocive contenute nelle creme negli organismi viventi Tra cui anche noi esseri umani Molte aziende si stanno impegnando in tal senso e riportano sulle confezioni i loghi dei loro programmi di rispetto dell'ambiente marino Per aiutarvi nella scelta consapevole di un solare, vi elenco i nomi dei filtri più comuni, pronunciandone il nome così come sono scritti per chiarezza Tra i filtri chimici andrebbero evitati assolutamente l'Enzacamene e l'Oxybenzone, entrambi interferenti endocrini In una posizione intermedia si collocano l'octocrilene e l'octinoxate, mentre tra i migliori filtri chimici ricordiamo il Mexoril e l'Avobenzone Nella descrizione al video troverai anche il nome chimico completo di questi filtri, in modo da riuscire ad individuarli tra gli ingredienti del tuo solare I filtri fisici invece, come già detto, sono molto più sicuri e quindi ne ricordiamo solo alcuni tra i migliori, come l'ossido di zinco e il diossido di titanio Oltre all'impiego di un complesso di filtri di ottima qualità, le formulazioni dei solari possono essere arricchite di principi antiossidanti O complessi brevettati che proteggano la cute dall'invecchiamento, quindi con un'azione antietà Per rispettare la pelle sensibile, soprattutto quella dei bambini o di chi presenta intolleranze, è meglio scegliere un solare che sia testato sui metalli pesanti e privo di profumo, conservanti e glutine Tutte queste caratteristiche sono di solito un vanto per le aziende produttrici che le evidenziano sulle loro confezioni Per garantire un'azione prolungata, le formulazioni dei migliori solari sono resistenti all'acqua e, soprattutto nel caso dei prodotti per bambini, anche allo sfregamento con la sabbia Abbiamo visto che nella scelta di un buon solare la nostra attenzione va rivolta innanzitutto al complesso di filtri chimici e fisici che ne garantiscono sicurezza ed efficacia Abbiamo anche visto che è possibile scegliere la formulazione in base alle esigenze della pelle, particolarmente sensibile come nel caso dei bambini Oppure formulazioni molto resistenti all'acqua o addirittura che esplichino un'azione antietà Se il video ti è piaciuto metti like e, come sempre, aspetto le tue domande sull'argomento Un saluto dalla dottoressa Valentina di Semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te